Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata da Computer Museo Oggi abbiamo qui un pezzo veramente storico Per la verità questo video andrà anche sulla Vegeta e il Principe di Saiyan Infatti saluto i ragazzi Oggi questo è un video speciale riguardante questo Atari Infatti abbiamo qui, abbiamo programmato l'Atari per suonare la musica di Dragon Ball Per la verità è Dragon Ball GT Infatti adesso siamo pronti subito a farvela ascoltare Ho posizionato un radiomicrofono più vicino al televisore in modo che sentiate bene Anche se verrà registrato in playback e poi verrà trasmesso sempre nell'audio Quindi siamo pronti a iniziare Pronti? Via! Grazie a tutti! 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 Ciao! 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 Grazie a tutti!